Meloni Giambruno, il faccia a faccia. Prima di iniziare questa incredibile storia, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche facendo clic sulla campanella. Ciao a tutti gli appassionati di Amica Gossip. Siamo davvero felici di vedervi ancora una volta qui nel nostro angolo di chiacchiere su notizie e gossip. E ora, senza ulteriori indugi, lasciatevi coinvolgere da questo incredibile racconto. Giorgia Meloni ha annunciato la fine della sua relazione con il giornalista Andrea Giambruno dopo la trasmissione di video compromettenti da parte di Striscia la Notizia. Questi video mostrano Giambruno in atteggiamenti inappropriati con una collega. Non mancano le preoccupazioni sul suo futuro professionale, con possibili ripercussioni da Mediaset e sanzioni disciplinari dall'ordine dei giornalisti. La decisione di Meloni ha gettato luce sul loro passato e le implicazioni per la loro figlia. Antonio Ricci, ideatore di Striscia la Notizia, ha affermato che esistono solo due video compromettenti di Giambruno, registrati a giugno 2023 e già trasmessi. Tuttavia, ci sono voci su ulteriori materiale. Giambruno è in una situazione incerta sul piano professionale. Pier Silvio Berlusconi ha contattato personalmente Giorgia Meloni per esprimere dispiacere per l'accaduto. Al momento, Mediaset sembra non avere intenzione di licenziare Giambruno. Mentre Giambruno affronta incertezze professionali, Giorgia Meloni ha disertato ieri la Kermes di Fratelli d'Italia alla quale teneva tanto, molto probabilmente perché ha voluto evitare il «faccia a faccia» con Andrea Giambruno. Cosa pensate delle implicazioni di questa rottura per la carriera di Andrea Giambruno e la vita di Giorgia Meloni? Vi aspettiamo nei commenti. Grazie.